ciao a tutti tarta amici di tarta youtube tv benvenuti a tutti oggi siamo ancora sulla rubrica siamo ancora con la rubrica ricette dalla dolce cucina di aldi stein oggi prepareremo la classica focaccia della mamma ovvero la focaccia fatta in casa con tutte le nostre mamme sanno fare questa ricetta come la prepara la mia farmi sapere come la prepara la vostra magari dai veniamo gli ingredienti qui di lato come vedete gli ingredienti e sono leggiamoli insieme 400 grammi di farina per pizza per pizza oppure va bene anche la farina tipo 00 la farina normale 10 grammi di lievito di birra quello in cubetti oppure quello in polvere quello secco va bene 4 grammi per 220 millilitri di acqua tiepida e due cucchiai 2 di sale fino che uno andrà messo nell'acqua per sciogliere lievito e l'altro nella pasta ma ciancio le bande bando alle ciance ho detto non lo so passiamo alla preparazione passiamo alla preparazione ciao ci vediamo dopo ci vediamo alla fine a tutti oggi stiamo preparando la focaccia abbiamo preparato 400 grammi di farina quindi abbiamo già fatto la fontanella lì 10 grammi di lievito di birra sciolti in 220 grammi di acqua 20.000 della stessa cosa questa fontanella adesso la collega usa andrà messo qua dentro e si impasserà a mano per dieci minuti fino a ottenere una palla bella densa e corposa e poi andrà fatta lievitare con un panno morbido per 10 15 minuti quindi ci sentiamo dopo la lievitazione adesso qua lavoriamo e facciamo la nostra palla ora cambio di programma abbiamo messo la nostra pizza direttamente nella teglia e la faremo lievitare lì dentro per circa due ore e mezzo tre ore si fanno questi buchi con le dita la teglia sotto oliata naturalmente con le teglie di alluminio usa e getta che si trovano facilmente in commercio mia moglie di dio ci siamo ritrovati sotto la minaccia della pistola prima che arrivassero i figli e crediamo bene bene poi quando i nostri ragazzi furono finalmente in grado di comprendere noi insegniamo tutto quello che sa domani su come indicare i pericoli e a tutt'oggi posso dire che jennifer era la persona più cauta che conoscessi al mondo è appena tornata da sempre con il suo ragazzo allora finisse nella prima prima copriamo questi canovacci questa tovaglia come vi ho detto sarà lì per due tre ore ci sentiamo a dopo ed eccoci sono pronte le nostre focacce questa è col cotto questa con i funghi e pomodori ci vediamo alla prossima ricetta ciao a tutti cartamici ciao a tutti